tu sai quali sono i comandamenti della tpr all'fvg? eh? che? come? è l'azienda dei trasporti del friuli venezia giulia e c'ha pure i comandamenti certamente ok ma non mi importa non avrai azienda di trasporto al di fuori di me non nominare il mio nome in vano ricordati di obliterare il biglietto onora l'autista non picchiare il controllore non commettere atti che violano il regolamento di vettura non rubare i martelletti d'emergenza ma che ve ne fate? non dare false generalità non desiderare la linea d'altri e non desiderare il mezzo altrui linea rossa non 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 Grazie a tutti.